buongiorno a tutti sono franco fava ho avuto il piacere e l'onore di far parte di questa iniziativa nata 40 anni fa giusto a termini della mia carriera agonistica l'onore di poter partecipare al prologo di quella prima edizione che si disputò a perugia e anche quello di aver contribuito alla realizzazione di questa grande idea nata in tempi non sospetti per quanto riguarda il mondo del running e della corsa un'idea promossa dalla wisp appoggiata subito dall ls perugia alla quale ha dato un contributo che ancora oggi che allora era molto originale ma che ancora oggi è valido quello della partenza data in simultanea nelle varie città con radio rai il segnale radio rai 1 e nei tempi in cui ovviamente non c'erano ancora i telefonini sembrò un'idea molto velleitaria ma funzionò e continua a funzionare il discorso poi molto innovativo dei percorsi compensati con una ricerca fatta a suo tempo dal professore antonio dal monte dell'istituto di vicino dello sport quadruato anche dalla firma leggendaria del corio dello sport vanni lorica ha avuto il merito in questi 40 anni di promuovere e di esportare il running si può dire perché il vivicità ha dato l'input per l'esportazione del running in tempi in cui la maratona di new york la maratona di new york partecipavano poche decine di italiani contro le migliaia di oggi e anche le maratone più blasonate erano ancora alle origini in cui la corsa era praticata da pochissimi e quindi questo questo chiamiamolo un miracolo che continua a rinnovarsi e che continua a espandersi non solo nelle città italiane ma poi in tutto il mondo grazie complimenti e buon lavoro per un vivicità che possa continuare a regalare emozioni come ha fatto in questi 40 anni